Buonasera e benvenuti all'anteprima di Skoda Enyaq, il primo SUV 100% elettrico del brand Skoda. Io sono Ferdinando Locascio, direttore commerciale di Autosystem e sono in compagnia di Fabio Minafo, responsabile del brand Skoda. Devo confessare che sono rimasto particolarmente colpito dalla bellezza e dalle innovazioni che ci sono all'interno di questo fantastico SUV. Enyaq, il primo SUV 100% elettrico di Skoda, costruito sulla nuova piattaforma Volkswagen Mab, un'autovettura dalle caratteristiche tecniche e qualitative di altissimo livello. Skoda già da tempo è apprezzata per la qualità costruttiva e l'innovazione, ma con Enyaq si è superata. Limiti di questa macchina non ce n'è. Considerate che abbiamo a disposizione un'applicazione chiamata Power Pass che consente di visionare le colonnine che si trovano nelle nostre vicinanze. Ha la possibilità di essere ricaricato sia in casa, utilizzando la wallbox che fornisce il concessionario, che presso le colonnine di ricarica pubblica. Ma in zona, nella provincia di Palermo, abbiamo colonnine pubbliche? Basta scaricare l'applicazione Power Pass e richiedere la card. Dall'applicazione stessa abbiamo la possibilità di visualizzare le colonnine attorno a noi e quindi scegliere la tipologia di colonnina e ricaricare la macchina. Non esiste più la preoccupazione di rimanere per strada. È un'autovettura che consente lunghi viaggi con le soste programmate e di viaggiare in totale sicurezza. In quante ore avviene una ricarica di Skoda Enyaq? I tempi di ricarica sono variabili. Ci sono colonnine di ricarica rapida o la possibilità di ricaricarla a casa. Sicuramente con le colonnine di ricarica rapida, in poco più di mezz'ora ricarica all'80%. Fantastico! Mi stai convincendo, mi sa che l'acquisterò pure io. Andiamola a scoprire. Andiamola a scoprire. Torna a scoprire. Grazie a tutti.